Benvenuti fantasmini in questo nuovo video unboxando con Jack Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video unboxing Come da titolo adesso andiamo ad unboxare il mini funko di CTR Crash Team Racing di Tofue Ovvero Polar Però come credo voi sappiate ormai ce ne sono però ben 6 in totale Ovvero Cortex, Coco, Crash, Reaper Raw, Oxide e Polar ovviamente Io ho soltanto Polar quindi andiamo ad unboxare lui Quindi adesso armato di taglierino andrò a levare questa pellicola e poi ad aprirlo Ok allora andiamo subito ad aprirlo Vediamo un po' Andiamo a squirterla Ok mi sa che non serviva neanche Ok Vediamo un po' come si apre Se non sbaglio si apre qua dal retro esatto Quindi adesso andiamo a levare questa piccola pellicola Opla Perfetto Ma mi sa che non serviva neanche il taglierino perché si può levare anche con le mani Buono buono Ok allora Andiamo ad aprirlo È troppo bello davvero ragazzi Troppo troppo bello Ok qui c'è Un cavetto di plastica Aspetta adesso magari se riesco a levarlo senza tagliarlo Ah si 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 vabbè Faccio così Opla Ecco fatto Andiamo a tirarlo fuori Non pensate male Porcelloni Ed eccolo qui Ed eccolo qui È molto piccolo È molto piccolo Davvero Però ben fatto Come potete vedere Davvero molto carino È davvero molto simpatico Tanto per farvi fare un'idea Questa qui è la grandezza di Polar Rispetto al funco di Crash Quello standard diciamo Ecco Questo è anche molto bello Non ho fatto il video unboxing Perché ero impossibilitato Ma visto che ci sono Vi faccio vedere pure questo Che è davvero molto molto bello Davvero molto carino Comunque se volete acquistarli Io questo qua l'ho preso random Perché ci sono quelle Tipo Box Mystery Che si comprano Tramite Amp.it E io l'ho preso lì E vi beccate Quello che vi beccate Insomma Altrimenti Andate Per esempio Nei siti come Zavi Oppure altri siti come eBay E eccetera E li comprate singolarmente Io questo qua L'ho pagato circa 7 euro e 99 8 euro in pratica Acquistarli tutti quanti C'è una piccola cifra Insomma La pagare Ecco Quindi se volete Acquistarli tutti e 6 Ragazzi Sappiate che sono fatto Che sono ben fatto Ben fatti E dentro Potete anche lasciarli dentro È molto carino anche Come si presenta la scatola Detto questo Io vi ringrazio per avere risultato il video Noi ci vediamo a prossimi video Magari di unboxing O video gameplay Via live Adesso vedremo Fate i bravi Mi raccomando E alla prossima Ciao 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 Passa Al lato oscuro Della forza Iscrivendoti al canale Di JackWhite28 Ciao 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 Grazie a tutti.